Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti anche se manca l'ufficialità di IMSS ormai è praticamente certo che le pensioni di dicembre saranno pagate anticipatamente anche per l'ultimo mese del 2021. Vediamo dunque in questo video il calendario scaglionato per cognomi con tutte le relative lettere. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito come già avvenuto per novembre anche per i mesi precedenti per via dell'emergenza da covid-19. Ricordiamo che tale anticipo riguarderà tutti coloro che si sono rivolti a poste italiane per quanto riguarda i trattamenti pensionistici assegni pensione identità di accompagnamento per gli invalidi civili e anche per l'anticipo di dicembre il ritiro delle pensioni presso le poste avverrà secondo un calendario scaglionato. Chi è intestatario di un conto banco poste di un libretto di risparmio di una poste per evolution vediamo dunque di seguito il calendario più probabile per quanto riguarda il ritiro delle pensioni anticipate di dicembre 2021 in posta. I lettere dalla B giovedì 25 novembre lettere dalla C alla D venerdì 26 novembre lettere dalla E alla K sabato 27 novembre la mattina lettere dalla L alla O lunedì 29 novembre lettere dalla P alla R martedì 30 novembre lettere dalla S alla Z mercoledì 1 dicembre. L'IMS ha specificato che anche per l'accredito in anticipo il diritto a ratio di pensione si matura il primo giorno bancabile del mese. Coloro che invece ricevono il trattamento pensionistico direttamente sul conto corrente il giorno sarà il primo dicembre in quanto il primo giorno bancabile del mese. Ricordiamo inoltre che con il pagamento delle pensioni di dicembre arriverà anche la tredicesima di cui abbiamo parlato in un video degli scorsi giorni che per approfondire potete visionarlo nel video che abbiamo pubblicato nel link in descrizione. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.